questo concetto in sociologia nella scienza politica è molto importante chiaramente un concetto centrale quello della lobby israeliana è molto importante chiarire che dal punto di vista sociologico io chiaramente utilizzo il concetto in questo senso il concetto di lobby israeliana non ha una connotazione etnica e infatti non parlo mai di una lobby ebraica per quale motivo perché dal punto di vista sociologico la lobby israeliana fa riferimento a un insieme di persone che sono cattoliche sono ate sono ci sono buddisti c'è di tutto cioè la lobby israeliana è fatta di tante persone molte delle quali non sono israeliani che semplicemente svolgono la funzione di coprire i crimini di israele contro l'umanità questo è molto importante perché molte persone che non conoscono la letteratura scientifica confondono il concetto di lobby israeliana con lobby ebraica che sono due cose completamente diverse perché il concetto di lobby ebraica che non utilizzo mai afferisce a una dimensione etnico religiosa mentre il concetto di lobby israeliana l'unico che utilizzi afferisce a una dimensione politico sociale cioè è un gruppo politico sociale non è un gruppo religioso infatti noi in italia abbiamo membri della lobby israeliana che sono tutti quegli italiani quei politici italiani che cercano di coprire il massacro di gaza o che comunque forniscono sostegno a netanyahu nella conduzione del massacro di gaza oppure che sono italiani magari sono cattolici magari sono atei magari sono buddisti sono italiani che colpiscono gli studiosi liberi che cercano di denunciare i crimini contro l'umanità di israele questo è molto importante chiarire appunto il significato di questo concetto di lobby israeliana dobbiamo sempre ricordarci che da una parte noi dobbiamo proteggere i palestinesi dall'altro dobbiamo sempre combattere contro l'antisemitismo che rimane un orrore io ho dedicato la mia interesistenza a combattere contro l'antisemitismo e contro tutte le forme di razzismo quindi molto molto importante chiarire quale sia il concetto appunto di di lobby israeliana sì appunto ho un po' quella che è la diatriba tra antisionismo e antisemitismo che creano il sionismo in quanto progetto della costruzione dello stato israele guardi le faccio un esempio per farmi capire di che cosa possa fare la lobby israeliana dal punto di vista culturale lobby israeliana è quando una persona dice che l'olocausto giustifica lo sterminio di gaza questa è una tipica narrazione della lobby israeliana e oppure quello che diceva lei il fatto di non distinguere tra antisemitismo e antisionismo cioè di non distinguere appunto quello che è una forma di nazionalismo come tante altre e quella che invece è una forma esecrabile di razzismo no che è appunto l'antisemitismo e la lobby israeliana sostiene questa tesi e impiega le proprie risorse per accreditarla la tesi secondo cui israele che poi quello che dice netanyahu avrebbe il diritto di sterminare i palestinesi perché ha subito l'olocausto ma ci sono a ricordiamo anche questo delle persone meravigliose che sono ebrei appunto e come monio vadia monio vadia è un ebreo è probabilmente anzi sicuramente almeno a mio giudizio la figura pedagogica più alta e più bella del nostro paese monio vadia da ebreo lotta contro la lobby israeliana lotta contro netanyahu e solidarizza con i palestinesi ci sono tantissimi ebrei che sono schierati contro netanyahu anche negli stati uniti maggiori intellettuali americani in questo momento ebrei sono schierati contro netanyahu grazie a tutti